Gunilla Goldberg fu felice di aiutarci nel nostro piccolo piano, essendo anche lei una prima moglie. In effetti, Gunilla era una prima, seconda, terza e quarta moglie. Il che spiegava il suo ambiente confortevolissimo. Questo è squisito. Di solito mi porto il mio condimento, quella roba contro il colesterolo. Ma questa è qualità ristorante. Grazie. Posso dire una cosa? Quando ho ricevuto la sua telefonata, ho detto a Morty, ho detto, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, io e Gunilla. Vedi, una volta lavoravo per Morty, ero la sua assistente amministrativa dietro il bancone. Naturalmente allora era sposato con quell'incubo, Brenda, che è una donna priva di classe, è sempre una bagnerola. Gli ho detto, Morty, devi sgambare avanti e aggrampare la cima. E adesso, eccomi qua, al centro eleganza. Beh, sa, ecco, non appena l'ho vista, la prima impressione che ho avuto è stata lei è qualcuno, lei è qualcosa. Vedi, è quello che gli ho detto io. Ma lui non ci arriva, lui non ci arriva un sacco di cose, sa. L'ha finito? Oh, sì, ho fatto. Prendi la forchetta. Forchetta. Oh!